Ciao a tutti, bentornati sul canale del Bauscio Nero Blu, Sergio Saruggeri. Ciao, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti, come state ragazzi? Avete ripreso? Avete ripreso? No, perché io abito qua a Milano e dai, qualcosa si muove. C'è meno desolazione. Ecco, speriamo che tutti rispettino però le regole, prendano le giuste precauzioni e di non ritornare ancora alla fase 1, perché non se ne poteva veramente più. Oggi ho ripreso anche io a lavorare, quindi sono di un altro umore, sempre molto arrabbiato però, sempre molto arrabbiato. Allora ragazzi, ieri abbiamo fatto un'ottima live, grazie a tutti, e ho fatto un video che definirlo sfogo è poco, ma veramente è venuto da dentro, è venuto da dentro perché adesso basta, adesso basta, non è il primo video dove io utilizzo questo linguaggio. Vediamo, facciamo vedere bene, ok, perché ieri nell'eccitazione ho spaccato su tutto. Allora, facciamo vedere le magliette dell'amico Francesco Piccolo. Ragazzi, quello che è venuto fuori ieri su Giuseppe Pecoraro ha veramente dell'incredibile, e mi sono tornato indietro tanti anni quando avevo un bar e dicevo a chi entrava, che si parlava di calcio e tutto, fa, guarda caso, è venuto fuori quello che io vi dico da anni, è vero o non è vero? Tutti i sospetti che avevo, ecco, mi hanno fatto venire in mente, mi hanno fatto venire in mente tutte le volte che io vi ripetevo, avete visto che non sono un pazzo visionario? Ecco, allora, la partita di due anni fa, Inter-Juventus, che si arriva all'Inter per andare in Champions, grazie a Dio ci siamo andati, anche perché, voglio dire, non puntavamo allo scudetto, ma grazie a quella conduzione, perché? Ragazzi, si può dire che qualcosa che non tornava c'era, perché tante cose che non tornavano c'erano su quella partita lì, e per noi era importante, perché? Perché se quella partita l'avessimo vinta andavamo in Champions in una maniera più tranquilla, poi alla fine siamo riusciti per il rotto della cuffia a entrarci lo stesso, però comunque quanti soldi avremmo perso se non andava, perché comunque è andata proprio di lusso, ok? C'è andata di lusso, perché poi alla fine, quell'anno, riusciamo ad andare in Champions, però comunque, a prescindere dagli interessi personali, il calcio è lo sport più bello del mondo, il calcio è lo sport che ci ha fatto innamorare, io però sono innamorato dell'Inter, perché non sono più innamorato del calcio, non sono assolutamente più innamorato del calcio, oggi in un audio con un mio amico, che anche lui fa lo youtuber, io l'ho proprio detto, fa io perché sono proprio tanto innamorato dell'Inter, perché se no, io questo calcio qua non è più il mio calcio, non è più il calcio che io seguivo quando ero un attimino più piccolo, magari avevo anche più tempo, però non c'erano le pay tv, quindi non si potevano seguire tutti gli avvenimenti calcistici, mi limitavo a vedere, perché le trasmettevano le partite delle coppe, ma per me era una cosa doverosa guardarle tutte, perché? Perché era un piacere guardare tutte le squadre, non solo l'Inter, ecco, non è proprio più così, io guardo solo ed esclusivamente la mia Inter, è la primavera dell'Inter, e ogni tanto guardo il Milan, però io e le altre squadre non sono più appassionato, perché? Perché mi hanno fatto perdere la passione, mi hanno fatto perdere la passione, vorrei tornarvi un attimino al video di ieri di Pecoraro, perché? Perché comunque l'informazione, insomma, non ne ha dato il giusto risalto, secondo me, se mi posso permettere di dire una cosa del genere la dico, perché? Perché mi aspettavo, mi aspettavo che se ne parlasse di più, invece tutto dentro la cupola, cioè la cupola no, la bolla di vetro, tutto dentro la bolla di vetro, ok? Tutto dentro a questa bolla di vetro che è comunque parte integrante dell'informazione in Italia, perché? Perché comunque siamo sempre lì, sono i soliti discorsi, ok? E questo è una cosa che veramente io reputo molto grave, ok? Qua non si parla dell'episodio durante una partita, qua non si parla dell'errore, ok? Qua si parla di qualcosa di molto più grande, che tanti di noi pensano e tanti di noi continuano a vedere il calcio, perché sono troppo innamorati come me della propria squadra. Ecco, vi rispondo già alla domanda dei detrattori, che sicuramente sotto i commenti farete, è allora non guardare più il calcio, no, io guardo la mia Inter, non lo guardo più il calcio, guardo la mia Inter, ok? Poi la cosa che mi fa arrabbiare è la linea di difesa, perché? Perché io ho sentito comunque parlare qualche tifoso di quella squadra là, di Torino, e comunque la linea di difesa è impugnare il regolamento, perché chiaramente quello non era, non rientrava, non rientrava nel VAR, perché? Per sa Dio quale regolamento, perché poi io con i regolamenti, ragazzi, cioè sono talmente complicati che uno lo deve fare di professione, o ci deve cimentare con impegno massimo, perché è molto più facile andare a tradurre il calcio civile piuttosto che il regolamento, perché? Perché è fatto veramente ad hoc, secondo me, a questo punto, perché non si può impugnare il regolamento. Ma aspettavo più fantasia, ok? Per chi ancora cerca di difendere l'indifendibile, perché ho provato anche a leggere qualche notizia oggi sui vari quotidiani, o comunque su Twitter, su altri social, e ho notato che i tifosi di quella squadra là impugnano il regolamento, dicendo che non rientrava, non rientrava nel VAR e ecco perché non si trova il file. Quindi, quindi, Giuseppe Pecoraro e tutto il suo staff non conoscevano il regolamento quando ci rimasero veramente di stucco a seguito della scomparsa di quei file audio. Perché proprio dice, vergolettato Pecoraro, il file che cercavamo, guarda caso non l'abbiamo trovato. E noi lo volevamo esaminare non perché pensavamo nella mala fede, assolutamente. Però avevamo bisogno di quei file audio, di quel file audio scomparso. E non è scomparso, certamente, perché non rientrava in un episodio VAR e quindi per quello è stato cancellato. Perché ce n'erano altri che non rientravano, ok? Quindi, smettiamola di prendere difese in una maniera comunque superficiale, se posso permettermi. Perché? Perché veramente, stamattina, perché mi sono alzato prima del solito, mi sono messo lì per curiosità a guardare. Ma non ho guardato YouTube, ho proprio guardato tutto, stampa, giornali, Twitter, tutto quanto e la linea di difesa dei tifosi di quella squadra là è quella. No, ragazzi, no. Voi non capite, voi non capite, che è anche contro la vostra squadra tutta questa situazione. Comunque voi avete una squadra che è più forte ancora degli altri. Anche se, in tanti campionati, secondo me, con un metodo di giudizio pari o uguale per tutti, non ne avreste vinti otto di fila. Perché? Perché quello scudetto lì lo vinceva tranquillamente il Napoli e potrei andare avanti. Ma bisogna essere obiettivi. Parlate tutti di sportività, parlate tutti di stemperaritoni, parlate tutti che comunque l'interista medio parla sempre solo di voi. No, l'interista medio ne ha pieni coglioni, l'interista medio ne ha pieni coglioni, come ne ha pieni coglioni di qualsiasi tifoso, di qualsiasi squadra di calcio. Perché ne ha pieni le palle di sentire queste cose. Ne ha pieni le palle. Ne ha pieni le palle. Perché? Perché queste cose rovinano il nostro sport. Rovinano il nostro sport. E voi dovete fare comunque una linea diversa, secondo me, se posso permettermi. Voi dovreste dire, basta, vogliamo anche noi vincere quando meritiamo e perdere quando meritiamo di perdere. Perché? Perché vi farebbe onore un ragionamento del genere. Cercate di capire che non dovete più difenderlo indifendibile. Cari i miei scoloriti, e non ce l'ho con voi, perché quello che è venuto fuori ieri, io non sono anti-juventino. Non posso vedere la Juventus, ma non è che vivo in funzione di non potervi vedere. A me ne fotte niente di voi, niente. Chiariamola questa cosa. Chiariamola una volta per tutte, non me ne frega niente. Anzi, secondo me, va contro anche alla vostra squadra questa situazione. Perché è una cosa, è una cosa sulla quale dovreste anche voi farvi sentire e dire, basta, ci siamo stufati. Ma non basta ci siamo stufati di false attacchi o di attacchi sterili per attaccarsi a chissà che cosa. No, aprite gli occhi, uscite dalla bolla, uscite da sta cacchio di bolla, uscite da sta bolla. Ragazzi cari, uscite da sta bolla. Guardate l'evidenza, contro l'evidenza, che cosa c'entra? Tirate in ballo sempre il regolamento. Ma quale è il regolamento? Quale? Quale è il regolamento? Atalanta-Juve? Vogliamo parlare del regolamento in Atalanta-Juve? Posso andare avanti? Juve-Bologna, guardiamo il regolamento. No, voi mi rispondete, ma Inter-Parma, il gol era in fuorigioco. Il gol era, com'era? Com'era quel gol lì? Tra i rigori ci dovevano dare. Ancora, sempre le solite cose, basta, ci siamo rotti le scatole, vogliamo un calcio pulito e vinca chi merita, vinca chi merita e non ne torniamo più. Nel video di ieri io mi sono dimenticato però di dire una cosa. Perché? Perché io ero rimasto scosso nel leggere l'intervista di circa un mesetto fa dell'allenatore della Juve. Ok? Cacchio, ho pronunciato quel nome lì? Mi devo fare i gargarismi. Devo sciacquare perché non si può dire quel nome. Però ragazzi, leggere quell'intervista ogni un mese fa e collegarla a quello che è successo, che riguarda proprio la partita dove l'allenatore della squadra più colpita da Inter-Juventus è stato proprio l'ex allenatore del Napoli che adesso allena quelli là di Torino. E insomma, mi piacerebbe che quell'intervista uscisse adesso e io la facessero in questi giorni. e vediamo se dice mi sento veramente un gobbo perché queste sono state le parole dell'allenatore di quelli là, del signor Sarri. Visto che in prima persona insomma è stato colpito da quello che poi insomma era sotto gli occhi di tutti ma è uscito. E perché è uscito dopo due anni? Perché tutto quanto sta uscendo adesso? Porcaccia la miseriaccia! Perché? È quello che non capisco perché adesso dopo due anni? Perché? Perché? Va bene, dai, chiudiamola qua, chiudiamola qua, chiudiamo il video con un virgolettato del signor Milito a riguardo di Lautaro anche se non c'entra niente con il video però comunque volevo mettervela lì perché un attimino mi ha spiazzato dove parlando di Lautaro dice sì, Lautaro sta bene all'Inter ma non so cosa accadrà eh? Però è il però a me non piace a me non piace perché? Perché fa capire che Lautaro con la testa è al Barcellona perché giocare con Messi sarebbe un'ottima opportunità chi ha portato qua in Italia Lautaro è stato proprio Milito e sentire frasi del genere eh portano al fatto compiuto che il ragazzo con la testa nonostante faccia vedere che autografa le magliette dell'Inter e tutto quanto vuole andare da Messi quindi caro To vai fuori dai maroni vai fuori dai maroni se rimani qua vai davanti le telecamere accenditi un social a caso ok e non chiedi scusa perché non c'è niente da chiedere scusa ma chiarisci con noi tifosi perché noi siamo l'Inter ragazzi i presidenti vanno e vengono i giocatori vanno e vengono noi ci siamo sempre quindi vai davanti ai tuoi tifosi e dici io rimango perché questa maglia mi è entrata dentro perché quelli sono i colori del mio sangue e io sarò nella nostra bagniera non è così vai al Barcellona grazie arrivederci e portaci il cash va bene signor Lautaro poi io onestamente lo so che è giusto che anche i personaggi pubblici esprimano il loro parere però io onestamente non capisco che bisogno c'era signor Milito di uscire con un'intervista che riguardava Lautaro Martinez in questo periodo non lo so non lo capisco poi io se l'ho fatto la mia maniera ci mancherebbe altro ragazzi allora io vi saluto do l'appuntamento a tutti quanti questa sera dalle 20 alle 22 su Radio Playtime il calcio nel tubo stasera abbiamo dei grandi ospiti perché ci sarà l'amico vabbè l'amico Dario Calbi ormai non è un ospite perché la trasmissione la facciamo io Alex Restelli e Dario Calbi insieme appassionatamente e decidiamo tutti noi tre degli ospiti della programmazione dei contenuti quindi è una cosa che facciamo praticamente ormai tutti e tre insieme molto in una maniera molto affettata quindi non sono più ospiti l'amico Alex e l'amico Dario oggi ci sarà l'amico Diego Ligorio il grande mister Jack interverrà dalle 9 alle 10 e insieme a lui ci sarà Donato Inglese e a Donato Inglese faremo qualche domanda visto che è un ex arbitro cosa almeno lui ci potrà spiegare un po' non quello che è successo in interiuve ma il fatto del regolamento quindi difesa estrema di quelli là di Torino cosa almeno magari capiremo un po' di più ragazzi io vi do l'appuntamento questa sera mi raccomando iscrivetevi se ancora non l'avete fatto al mio canale mettete il pollicione in su se lo mettete in giù mi fate capire che siete gioventini ma fate un po' quello che volete di Milano il simbolo regale e il bisciolo dell'internazionale ve vere bene a tutti oggi live 5 e mezza come al solito ciao ragazzi forza Inter